Ciao ragazzi, questo è un video tag che ha lanciato una ragazza sui nostri gioielli preferiti Allora, io non ho molti gioielli, cioè, io non ce l'ho portata per gli accessori Quindi vi faccio vedere un po' le cosette economiche che ho Allora, partiamo subito da questo braccialetto qua Della, eccoci, forse vedete meglio, della nomination Vedete? Con queste farfalline Questo qui è stato un regalo di mia nonna, a cui tengo molto E anche questo bracciale qui, che è in argente oro Poi, questo è stato un regalo del mio ventunesimo compleanno Della Morellato, questo pendente qui, molto bello E poi, insomma, questa che è di pietre minerali Me l'avete visto anche in qualche video Poi passiamo a cose più economiche, del tipo questa stellina che mi piace molto Stile emo Che metto... dipende Poi, queste collane Da azigogolare intorno al coll Farci mille nodi lunghissime Di perle finito ovviamente Queste Poi ho questa collana Queste due collane in argento indiano Che qui a Livorno usa molto l'argento indiano Non so se da voi vale la stessa cosa E poi vi volevo far vedere chi c'è qui Ecco, naturalmente scappa Perché è un po' empaurito Eccolo Eccola, è Alex, la mia coniglietta Purtroppo Mi ha chiamato stamani il veterinario Dicendo che ha molti Batteri intestinali E oggi andremo a comprarle le medicine E che se no potrebbe rischiare anche di morire Cosa che non voglio Vi saluto In basso, c'è